Con gli amici o in famiglia, al mare o in montagna, in piazza, a Macerata o Civitanova o nelle discoteche. Come passeranno i maceratesi il veglione di San Silvestro in questo 2015 che ci saluta e che noi ricordiamo con il nostro annuario di cronache e come daranno il benvenuto invece al 2016 che sta per entrare. Scopriamolo. Buongiorno, a Capodanno che fate? A casa si lavora. Si lavora. Vuole fare un ospedale in un supermercato e quindi... I lavoratori alla notte di Capodanno. Auguri. Si sia col fiorito. Sciare. Eh purtroppo no. Si scia. No, ancora no. Escursioni. Si escursioni, giusto quello che possiamo fare con questo tempo. Anche se non sono di qui ma sono venuto qui a trovare amici e parenti perché mio papà è originario di queste terre. Casa. Casa. Con la famiglia. Con la famiglia a casa e con il cane. Con il cane che è sempre meglio un cane amico che un amico cane. L'amico cane no, non lo vorrebbe nessuno. Il cane amico sicuramente ha una fortuna e solo che qualcuno non lo capisce. Cinque minuti. Lenticchia, classica lenticchia, un piccolo antipasto e zampone, salsicce. Piatti tradizionali. Piatti tradizionali. Piatti tradizionali. Bologna, estra con così. Quello secche, decise, prenotate. Prenotate. Non siamo indecise per una volta. Primo anno che sapete quello che dovete fare. Eh sì, sì. Benissimo. Quindi, suppongo la socia andrà con l'amica. No, io ho un matrimonio. Un matrimonio è l'ultimo. Particolare. Sì. Chi si sposa? È un collega di lavoro del mio ragazzo. Vogliamo fare gli auguri agli spazi. Leonardo. Leonardo è? Non lo so. Benissimo. È una classica imbucata. Assolutamente niente. Stoica, imperterrita a casa. Sì, sì. Casa. Poi dritta a letto. No, vabbè. Un giletto. A Macerata, in piazza. Sì. Massimo al terminal. Quindi, locali maceratesi, piazze maceratesi, è un campo d'anno autentico, bianco-rosso. Bianco-rosso no. Casalingo. Sì, sì, a casa mia con gli amici, no, no. Però in casa, come sempre. Dovrà cucinare. Sì, cucinerà. Il menù qual è? Lenti che è cotechino e tortellini al tartufo. Una sorpresa perché siamo qua in vacanza. A Macerata. Esatto. Come mai la scelta? A Macerata per... Abbiamo amici qua, siamo venuti a festeggiare. Come l'avete trovata? Bella. Fresca. Sì. Abbiamo deciso adesso, stiamo con una coppia d'amici e andiamo a cena qui a mangiare qualcosa. Qui in un locale del centro, quindi preferite il centro. Sì. Anche perché non ci possiamo spostare. Ah, bene. Quindi una delle novità del 2016 sarà questa. Che si chiamerà? Noa. Ah, io cose private. Ah, private? Sì, private, non in quel senso, ma molto tranquille. Poi dopo mezzanotte un giretto in piazza. Ma c'era una cosa nuova, sì, sì. Saluto quelli che trovo e poi vado a dormire. Bene, sì. E tutto ciò è molto bello e mi alzo all'alba il primo dell'anno. Bene, sì. E mi metto a fare le foto, tanto faccio sempre quello. Con mamma. A casa, tranquillo. Sì, sì, dopo forse vedrò il concerto. Qui in piazza? Sì. Non è che vado in discoteca perché non mi piace. Ok, Nigeria. Nigeria? Sì. Come è in Nigeria e Happy New Year? Come è la celebrazione in Nigeria? Happy New Year? Come è? Come dice Happy New Year? Ok, Happy New Year. È Happy New Year. Ah, è Happy New Year? Yes, Happy New Year. Happy New Year a tutta Macerata. Ok, Happy New Year Macerata. Buona festa Macerata. E' una cosa semplice con amici a casa, non a casa nostra. Qui a Macerata? Si può dire. Non lo so di sicuro, sinceramente. Non lo so. Perché è sempre all'ultimo minuto. Sì, sempre all'ultimo minuto. Sono le cose più belle le cose fatte all'ultimo minuto. E' un'occasione per regalarti l'annuario che già su poco a casa. Grazie, sì, già ce l'abbiamo e l'ho anche visto. Che ne penso. Che hai fatto molto bene, complimenti. Siete molto bravi, bravissimi. Oh, facciamo gli auguri di buon anno ai macerati. Sì, e anche a tutto il mondo a questo punto. E in particolare a mio marito. Sono costretto a stare a casa con la sua oggela che è appena uscita dall'ospedale. Però la buona notizia è che è uscita dall'ospedale, quindi sta meglio. Però Capodanno un po' a casa, sobrio, tranquillo. Sobrio, tranquillo, tranquillo. Cucina lei? Cucino io, sì, sì, sì. Lenticchia di Castelluccio. Di Castelluccio rigorosamente? Rigorosamente con zampone o cotechino, quindi insomma, auguri a tutti. Sì, ovviamente è di brammatica. L'augurio è che ognuno possa magari avvicinarsi a ciò che desidera, ecco, non di più. Facciamo gli auguri anche alla sua cera, di pronta guarigione. A Capodanno io sto in piazza, però il mio lavoro mi porta a fare le foto in giro, come sempre, come ogni anno. Però la mezzanotte l'aspetto in piazza. Beh, anche foto e anche tanti auguri con le persone. Gli auguri, è ovvio, gli auguri con chi se ne merita, gli auguri, è vero? Vuoi fare gli auguri ai maceratesi? Ce l'ho detto prima, a chi se ne merita li facciamo gli auguri, a chi non se ne merita non faccio niente. Noi vogliamo l'occasione per darti l'annuario di cronaca maceratesi, che penso ancora non l'avamo fatto. Perdonaci, vuoi fare gli auguri ai maceratesi? Grazie e auguri a tutti. Grazie a te. Sia un anno di serenità, di prosperità e di pace. Calich rognà. Calich rognà. Calich rognà, calich rognà. Buono, è vero, leviamoci l'occhiaglio al sole perché... Auguri. Auguri, auguri. Lei che fa per Capodanno? Festeggia qui a Macerata? A Macerata, sì, festeggia qui a Macerata. Dalla Grecia a Macerata? Dalla Grecia a Macerata, sì, dalla Grecia a Macerata, sì. Come mai? Come mai? Si può dire? Non ho capito. Perché si trova qui? È una grande storia che comincia adesso, da 20 anni, da 20 anni sempre a Macerata. L'amore? C'è amore, ma l'amore degli amici, degli amici, molti amici e particolarmente alcuni amici di più di altri. Vogliamo fargli gli auguri a questi amici? E auguro buon Capodanno, buon anno, auguro la crisi in Europa finirà subito. Speriamo un po' tutti. Arrivederci. Molto piacere. Calì, calì. Calì, 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 buon anno. Auguri a tutti i maceratessi e buon 2016. Anche dalla mamma. Certo, certo. Auguri. Buon 2016. Io sono sempre speranzoso, che dico sempre, peggio non può andare, andrà per forza meglio, però poi in realtà il 2015 mi è piaciuto tanto a me. Auguri a tutti i maceratessi. Buone feste, buon 2016. Tanti auguri a tutti, buon anno e una buona vita. Auguri a tutti. Auguri. Auguri di buon anno a tutti i maceratessi e anche ai lombardi, perché io per metà sono lombardo e per metà sono marchigiani. Tanti auguri ai maceratessi. Tanti auguri a tutti, di buon anno. Lei dall'Estragon. Dall'Estragon, buon anno a tutti. A voi studio. A voi studio. Annuario ce l'avete di cronaca? No, no. Ecco, una bella copia a testa per ricapitolare quello che è successo nel 2015. Grazie. Grazie. Grazie.